Ivan e Jacopo preghiamo magnifica poi continuiamo con il programma quotidiano pregando credo e sette pater ave gloria benediciamo vostri oggetti sacri preghiamo per guarigione del corpo e dell'anime e alla fine misteri gloriosi il Signore sia con voi per intercessione della Beata Vergine Maria Regine della Pace vi benedica Dio Onipotente Padre Figlio e Spirito Santo benediciamo Signore rendiamo grazie a Dio l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata grande cose ha fatto in me l'onipotente e santo il suo nome di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono a spiegato la potenza del suo braccio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore ha rovesciato i potenti dai troni ha innalzato gli umili ha ricolmato di beni gli affamati ha rimandato i ricchi a mani vuote a soccorso Israele il suo servo ricordandosi della sua misericordia come aveva detto ai nostri padri per Abramo e alla sua discendenza per sempre gloria al padre al figlio e allo spirito santo gloria al padre al figlio e allo spirito santo di scopo di decenni amenn Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.